Si accende il Parco del Colle del Pionta con la nona edizione del River Music Factory Festival. Concerti, formazione musicale e un'edizione speciale del Mercatino delle Pulci per tre giorni hanno fatto così vivere l'area verde. Per ascoltare la musica, per stare insieme come poi avviene tutte le manifestazioni musicali con un'attenzione speciale a questo posto a cui noi teniamo molto come Centro Giovani Arezzo Factory perché siamo qui a due passi da questo punto e quindi vediamo molto a questo spazio e farlo vivere attraverso degli eventi ricreativi anche all'aperto per noi è una bella cosa. Ad aprire le danze, venerdì 21 luglio, l'evento inaugurale del festival con una DJ Jam Session a cura di Johnny Type. Sabato 22 luglio sul palco del River si sono invece esibiti i One Man Blues, Yosaka Flu con il loro primo live dell'estate 2017 ed infine lo specchio di Cassandra. A chiudere la serata un Trash Party in versione XXL che si è prolungato fino a notte inoltrata. Domenica 23 luglio al parco del Colle del Pionta è tornato invece il mercatino delle Pulci Outdoor realizzato in collaborazione con l'associazione Bistraut. Oltre 100 i banchini presenti.